La strada verso Russia 2018 non comincia nel migliore dei modi per l'Italia. Il gruppo di Antonio Conte, tra le nazionali di seconda fascia, è stato sorteggiato nel Girone G, quello della Spagna. Un accoppiamento per nulla fortunato, anche se le furie rosse si trovano in una fase di transizione, con il gruppo attuale che non sembra avere la stessa fame di successi di quello storico che ha vinto due europei ed un mondiale. Ma l'Italia non ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide ufficiali contro gli spagnoli, rimediando tre pareggi e la pesante sconfitta per 4-0 nella finale di Euro 2012. Sicuramente più abbordabili sono le altre squadre che completano il Girone G, l'Albania di Gianni De Biasi, Israele, Macedonia e Liechtenstein. Alla fase finale del mondiale si qualificherà direttamente solo la prima del raggruppamento. Le otto migliori seconde invece dovranno confidare non successo nei play-off per staccare il biglietto per la Russia. Gli azzurri sono avvisati.